Ciao ragazzi, bentornati su Fuori Classe! Io sono Irene, insegno latino e materie letterarie in un liceo di Roma e Fuori Classe è nato per condividere video-lezioni e materiali didattici con gli studenti e con i docenti in questo periodo di chiusura delle scuole a causa del coronavirus. In questa video-lezione correggeremo insieme alcuni esercizi sul complemento di fine e sul doppio dativo. Iniziamo subito con la lettura della terza frase Dux suis militibus sociorum coortes auxilio mivit In questo caso il verbo si trova alla fine della frase ed è mivit Indicativo perfetto terza persona singolare attivo di mito mittis misi missum mittere Quindi vediamo che è un perfetto sigmatico Mito significa mando, quindi possiamo tradurlo in viò E cerchiamo subito un nominativo singolare che identifichiamo in dux Dux è un nominativo maschile singolare della terza declinazione Il sostantivo è dux ducis, quindi un tema in velare, c, velare sorda Con l'aggiunta dell'ess al nominativo, quindi un nominativo sigmatico Dux ducis significa condottiero, comandante Quindi il comandante inviò che cosa? Coortes Coortes, lo capiamo dalla disinenza S È un accusativo plurale della terza declinazione Del sostantivo coors, coortis Un tema in dentale con nominativo sigmatico Quindi la dentale, questa T, dentale sorda Al nominativo singolare scompare Perché si aggiunge la S, quindi cade Coors, coortis Quindi coortes, abbiamo detto accusativo plurale Coorte è un altro termine che in italiano utilizziamo poco Se non quando cantiamo l'inno di Mameli Come vedete, vi ho riportato alla definizione del vocabolario treccani E il vocabolario, come vedete, ci dice che in età romana Coorte indicava una suddivisione della legione dell'esercito romano In origine è formata di tre manipoli In seguito di tre manipoli e di sei centurie Mentre più oltre, appunto, cita proprio Stringiamci a coorte, siamo pronti alla morte Nell'inno di Mameli Dove il termine coorte è utilizzato nel significato più estensivo, generico di schiera In questa definizione si parla di manipolo Il manipolo era un'ulteriore suddivisione della legione romana Del gruppo dell'oggetto fa parte il genitivo sociorum Che precede coortes, termine al quale si riferisce Capiamo che il sociorum è un genitivo dalla desinenza orum Tipica del genitivo plurale della seconda declinazione Il termine sociorum deriva da socius socii e significa alleato Quindi il comandante inviò le coorti degli alleati Questo auxilio è il dativo singolare di auxilium auxilii Un neutro della seconda declinazione Che come impedimentum è una delle particolarità della seconda declinazione Infatti al singolare auxilium auxilii significa aiuto Al plurale auxilia auxiliorum significa truppe ausiliarie Ed è in questo caso il dativo di fine Che ci aspettavamo nell'ambito degli esercizi sul doppio dativo Quindi il comandante inviò le coorti degli alleati in aiuto In aiuto per chi? Qual è qui il dativo di vantaggio in questo caso? Perché auxilio, a differenza di impedimento, ha un significato positivo naturalmente Bene, il complemento di vantaggio in questo caso è militibus Vedete ibus di nuovo come nel caso di civibus È la desinenza del dativo plurale Anche dell'ablativo, ma in questo caso stavamo cercando proprio un dativo Della terza declinazione del sostantivo miles militis Che significa soldati Suis è l'attributo di militibus È un aggettivo possessivo Letteralmente è in aiuto ai suoi soldati Ed è questo un dativo di vantaggio più attributo Una proposta di traduzione è dunque Il comandante inviò in aiuto le coorti degli alleati ai suoi soldati Oppure il comandante inviò in aiuto ai suoi soldati le coorti degli alleati Leggiamo adesso la quarta frase Come sempre partiamo dal verbo che è invente sunt Invento e sunt è un indicativo perfetto passivo terza persona plurale Del verbo invenio, invenis, inveni, inventum, invenire Che significa scoprire, trovare È composta da sunt Quindi dall'ausiliare sum Coniugato alla terza persona plurale Più il participio perfetto invente Grazie alla desinenza E del participio perfetto Sappiamo fin da subito che dobbiamo cercare come soggetto Un nominativo plurale femminile Perché sunt già da solo ci dà l'informazione grammaticale Che il soggetto è plurale O che abbiamo due o più soggetti singolari Ma la desinenza E Cioè quella del nominativo plurale Del participio perfetto Ci consente anche di capire Che il soggetto o i soggetti Saranno femminili In questo caso il soggetto è Legges Cioè un nominativo femminile plurale Della terza declinazione Lo capiamo dalla desinenza S Del sostantivo Lex Legis Tema in velare sonora G Nominativo sigmatico Quindi l'unione della velare sonora G più la S Dal luogo alla consonante doppia X Quindi il tema Leg Che ricaviamo dal genitivo singolare Togliendo la desinenza Is E a cui uniamo la S Del nominativo sigmatico Della terza declinazione Dal luogo a Lex Dura Lex Sed Lex Si dice ancora una frase latina Che è rimasta in italiano nell'uso Quindi Legges è un nominativo femminile plurale Significa le leggi Le leggi furono inventate Oppure Sono state inventate Possiamo tradurlo anche con il passato prossimo Con che scopo? Ad salutem civium E la preposizione ad Più l'accusativo Salutem È lo stesso sostantivo Che abbiamo incontrato Qualche frase prima Questo salus Salus è il nominativo Salutem Salutem è l'accusativo Vi ricordate Significa salute Salvezza Sicurezza Quindi Per la salvezza Per la sicurezza Le leggi sono state inventate Per la sicurezza Di chi? Dei cittadini Questo civium Ium È la desinenza Del genitivo plurale Dei sostantivi Del secondo gruppo Della terza declinazione E questo civium È lo stesso sostantivo Che anche abbiamo incontrato Due frasi prima Civibus Significa cittadino Civis civis Genitivo plurale Quindi dei cittadini Ed è riferito anche questo A salutem Quindi Le leggi Legges Sono state inventate Inventesunt Ad salutem Per la sicurezza Di chi? Dei cittadini Genitivo plurale E Vedete che qui c'è questo Que Che è un'enclitica Che possiamo Spostare graficamente Con una freccia Tra i due genitivi Civium e civitatum E trasformare in un Et Bene L'enclitica Que Ci consente Di congiungere In quanto Congiunzione copulativa Salutem Civium E civitatum Incolumitatem Perché? Se ci fate caso Salutem È un accusativo singolare L'abbiamo detto Lo scriviamo Così come Incolumitatem È un accusativo singolare Mentre Civium Abbiamo detto Che è un genitivo plurale Lo riscriviamo qui E anche civitatum È un genitivo plurale Um È la desinenza Del genitivo Dei sostantivi Del primo gruppo Della terza declinazione Ricordiamo che La distinzione Dei nomi Della terza declinazione In tre gruppi È in realtà Una mera convenzione Che però È utile Per studiare Più facilmente La terza declinazione Che comporta Alcune difficoltà Quindi Civitas civitatis È un sostantivo Del primo gruppo Perché è un sostantivo In parisillabo Cioè con un diverso Numero di sillabe Tra il nominativo singolare E il genitivo singolare Con una sola consonante La T Prima della desinenza Is Del genitivo singolare Civitatis Prima di is C'è una sola consonante La T Mentre civium Cioè civis civis È un sostantivo Del secondo gruppo Che è costituito Da nomi parisillabi Per l'appunto Civis civis Con lo stesso numero Di sillabe Tra il nominativo E il genitivo singolare E dagli imparisillabi Con due consonanti Prima della desinenza Is Del genitivo singolare Quindi Desinenza ium Di civium Desinenza um Di civitatum Perché abbiamo detto Che la costruzione Che abbiamo appena visto È chiastica Il chiasmo È una figura retorica Che deriva il suo nome Dalla lettera greca Chi La chi È una lettera Che somiglia a una X Con i due tratti Leggermente più allungati E il chiasmo Deriva il suo nome Da questa lettera Per via della sua forma Incrociata Infatti Il chiasmo È una figura retorica Che consiste Nell'accostamento Di due membri Che sono concettualmente Paralleli In modo però Che i termini Del secondo membro Quindi di quello Che viene dopo Siano disposti In ordine inverso Rispetto ai termini Del primo membro Per fare un esempio In italiano Tratto dalla commedia Di Dante Ovidio è il terzo E l'ultimo è lucano Tornando quindi Alla nostra frase Come vedete Abbiamo una costruzione A X O meglio A chi Proviamo a riprodurla Se consideriamo Questo Et Il centro Della costruzione Chiastica Come vedete I due accusativi Singolari Sono agli estremi Opposti L'uno rispetto All'altro E in mezzo Abbiamo i due genitivi Plurali Se avessimo avuto Invece una costruzione Parallela Quindi un parallelismo Anziché un chiasmo La struttura Sarebbe stata la seguente In questo caso Come vedete Il genitivo plurale All'interno dei due membri Occupa la stessa posizione E la stessa posizione Occupano i due accusativi Singolari Quindi bisogna Considerare Questo Come primo membro E questo Come secondo membro Nel primo esempio L'esempio A Chiamiamolo Quello con la costruzione Chiastica A x La posizione Dei due termini Del primo membro È invertita Rispetto alla posizione Dei due termini Del secondo membro Quindi nel primo membro Abbiamo prima L'accusativo singolare Seguito dal genitivo plurale E nel secondo membro Prima il genitivo plurale Seguito dall'accusativo singolare Mentre nell'esempio B Dove abbiamo una costruzione Parallela I due termini Del primo membro Seguono lo stesso ordine Dei due termini Del secondo membro Genitivo plurale Accusativo singolare Di nuovo Genitivo plurale Accusativo singolare Quindi Torniamo alla traduzione Le leggi Sono state inventate Per la sicurezza Dei cittadini E Questo Incolumitatem È anch'esso Un accusativo singolare Sempre della terza declinazione Così come Salutem Da incolumitas Incolumitatis Ed è retto Dalla stessa preposizione Ad Quindi è un altro Complemento di fine Quindi Per la salvezza Dei cittadini E per l'incolumità Cioè La salute Di chi Delle città In questo caso Civitato Ma è il genitivo plurale Che si riferisce però A incolumitatem Avrei dovuto Cambiare colore Mi dispiace Non ci ho pensato Immediatamente Spero che Nonostante la confusione Dei tratti Si riesca comunque A capire Che civium È il genitivo Riferito a salutem Mentre civitatum È riferito a incolumità Una possibile traduzione Di questa frase È Le leggi Sono state inventate Per la sicurezza Dei cittadini E per l'incolumità Delle città Bene Per il momento Ci fermiamo qui Nella prossima video lezione Spiegherò come tradurre Le due frasi successive Se questa lezione Vi è stata utile Ricordatevi di iscrivervi Al canale E di cliccare Sul simbolo Della campanella Per ricevere sempre Le notifiche Delle prossime video lezioni Che verranno pubblicate A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti